Alberghi, parrucchieri e barbieri, bagnini, frutti e vendoli e pelletterie sono le categorie a rischio. Più virtuosi gelaterie e negozi di calzature. L'analisi complessiva che emerge nella provincia di Rimini dopo i due giorni di blitz della Guardia di Finanza in stile cortina è complessivamente preoccupante. Tra gli esercizi controllati sono risultate veramente delle irregolarità molto elevate. C'è anche da dire che le percentuali che emergono non fanno soltanto riferimento alla totalità dei commercianti di Rimini. I controlli si fanno anche in base alle analisi di rischio, alle segnalazioni. Due giorni di controllo, 60 militari impegnati, 170 esercenti controllati su tutta la provincia, 104 violazioni contestate. Il 62% è stato colto in fallo, una media inflessione rispetto al giorno precedente ma ben lontana da quella nazionale, poco meno del 30%. Dall'effetto deterrente alla Guardia di Finanza si aspettava dunque qualcosa di più. Basti pensare che un bar all'interno di un albergo sul lungomare, restio a rilasciare scontrini, è stato pizzicato in entrambi i giorni e non è l'unico caso eclatante. Abbiamo per esempio rilevato un gestore di un stabilimento balneare che affiancava l'attività di noleggio di rettine e ombrelloni a un'attività di vendita di bibite più disparate, assolutamente senza registrare i corrispettivi. Ai mugugni delle associazioni di categoria, la Guardia di Finanza risponde con il numero di segnalazioni arrivate al 117, 250 nei primi sei mesi dell'anno, il doppio rispetto a quello scorso.